cosa serve per fare un vetrino da osservare al microscopio? beh ovviamente oltre alla materia prima cioè un vetrino da microscopio e quello che ho deciso di osservare è utile poter avere una specie di kit di arnesi veramente come se fosse proprio un mestiere quello del microscopista che ci aiutano a preparare dei vetrini di buona qualità questo è uno strumento classico che io associo alla paura e al dolore perché è uno strumento del dentista che si può acquistare in farmacia poi chiaramente un bisturi anche questo facilmente acquistabile in farmacia ce ne sono anche con lame di svariato tipo una semplice punta d'acciaio che serve per mescolare sul vetrino polveri che devono sciogliersi oppure per spostare sulla superficie del vetrino verso destra o verso sinistra ciò che vogliamo osservare a portata di mano tengo sempre anche qualche lametta ben sigillata che mi serve per ottenere delle porzioni più fini e più piccole dei contagocce che si sporcano facilmente essendo di plastica quindi bisogna dotarsi di una buona quantità di contagocce ho scoperto che si trovano anche nei reparti di pasticceria perché servono per decorazioni dettagliate poi una forbice meglio se di questa foggia cioè con le lame più spostate verso ecco la parte delle lame è molto più piccola la parte dell'impugnatura è molto più lunga infatti assomigliano molto alle forbici dei chirurghi e poi sicuramente anche qualcosa per poter colorare il nostro vetrino questi sempre si acquistano singolarmente in farmacia e dentro solitamente tengo due o tre coloranti diversi uno è il blu di mitilene che si può trovare anche in polvere da diluire ed è un famoso disinfettante e l'altro invece è la tintura di iodio anche lei famosissimo disinfettante non li associo mai nello stesso vetrino ma li tengo molto molto diluiti a portata di mano perché capita spesso che delle sezioni o dei vetrini che ho preparato siano piuttosto incolori e magari difficili da osservare nei dettagli e con una goccia di colorante riesco a percepire meglio la differenza tra le membrane e diciamo l'acqua che ho appoggiato sul vetrino